vi do la ricetta e il procedimento per fare questa torta salata io ho utilizzato le bietole erbette surgelate comunque vorrei chiamare questa torta disco volante di roswell perché assomiglia ad un disco volante finito male molto male considerando che mi è quasi caduto a terra comunque si è distrutta ma si comincia a preparare le bietole mettendo in una pentola circa 400 millilitri di acqua e quando essa ha cominciato a bollire bisogna mettere all'interno i cubi delle bietole e fate cuocere per una decina di minuti i cubotti da quando il contenuto della pentola ha cominciato a sobollire comunque una volta cotte le verdure bisogna scolarle ed eliminare l'acqua in eccesso schiacciandole per bene dopodiché mettetele in una padella con un filo di olio di oliva extravergine e ovviamente questi ingredienti sono in quantità cubi ovvero aggiungete un po di aglio granulare in polvere e anche un po di cipolla in granuli io ho aggiunto sempre queste spezie perché sono più comode se volete potete mettere anche le spezie fresche io ho aggiunto anche mezzo cucchiaino di brodo vegetale in polvere e poi ho mescolato aggiungete anche i 30 grammi di grana padano e dopo aver mescolato fate raffreddare le bietole nel frattempo io ho levato l'acqua dalla filatura delle mozzarelle io ne ho usate due dal peso complessivo di 243 grammi per rendere più asciutte le mozzarelle dovete riempire la casseruola di un po d'acqua e portarla a bollire poi le mozzarelle vanno tagliate a pezzetti più piccoli come quadratini o rettangolini comunque grossolanamente perché i pezzi più piccoli si scioglieranno prima comunque prima di immergere la mozzarella nell'acqua bollente spegnete il fuoco e aspettate controllando con un termometro che la temperatura dell'acqua vada ad almeno 80 gradi insomma immergete la mozzarella io mi sono aiutata con i bastoncini cinesi ho rifatto così la filatura togliendo l'acqua questo è il risultato praticamente dovete far sciogliere la mozzarella e tirarla e rifarla su solo quando la mozzarella si è raffreddata per bene bisogna tagliarla a pezzettini con un coltello dopodiché io ho utilizzato la pasta sfoglia rotonda già pronta in quantità di due rotoli il primo rotolo di pasta sfoglia va adagiato sempre sulla carta forno anche sopra le griglie del forno e con una ciotola ho segnato la parte centrale della sfoglia per poi avere una guida dopodiché al centro attorno il centro bisogna mettere le vietine così come state vedendo lasciando i bordi liberi dal ripieno e anche un anellino che distacca il centro sopra le vietine mettete i pezzettini di mozzarella così in cottura si andranno a sciogliere ed insaporiranno ulteriormente le vietole e la mozzarella non andrà ad annacquare l'impasto perché già una mozzarella abbastanza asciutta dopodiché prendete l'altro rotolo di pasta sfoglia e adagiatelo sopra la creazione che è appena stata fatta chiudete i bordi schiacciandoli leggermente con una forchetta come sto facendo io invece per il centro schiacciatelo un po io utilizzo sempre la forchetta poi spennellate una po la torta salata con del latte in modo che essa in cottura si tornerà più facilmente io ho decorato con un po di pinoli al centro e delle linee che ho fatto sulla pasta sfoglia senza tagliarla e romperla completamente dopodiché essa va cotta circa 220 gradi per una quindicina di minuti comunque questo dipende da che forno utilizzate probabilmente dovete cuocerla di più vi aspetto nel mio prossimo video ciao ciao